Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland, io sono Andrea e questa è la rubrica del Tessiland News un prodotto che ci avete chiesto sempre in tante e noi come Tessiland eravamo lì pronti per poterlo riproporre perché è stato uno dei grandi cult di Tessiland ed è proprio il set Sicily in versione mini e versione normal mamma e figlio, ma andiamo a vederla nel dettaglio e vediamo quindi nel dettaglio il set mini Sicily questo prodotto è un prodotto interamente made in Italy è fatto tutto in Italia, cucito artigianalmente vi faccio vedere anche le doppie ribattiture che ci sono nella parte del manico e i terminali e tutte le rifiniture sono sempre in colore argento questa particolare rifinitura vi dà la possibilità e la troverete nel set di inserire questa tracolla che è di ben 95 cm circa quindi comodissima per poterla mettere a spalla quando poi vi siete stancati di portare la spalla tranquillamente diventa una borsa a mano la lunghezza è di 25 cm per questo si chiama mini Sicily inoltre si differenzia perché? perché abbiamo anche il Sicily che questa è una misura di ben 35 cm circa e ha le stesse rifiniture identiche ma in più ha questa piccola barra di plexiglass questa serve per dare maggior rinforzo nella parte interna di questo set in modo che questa piegatura non avvenga nel mini Sicily questa parte di plex non serve perché essendo molto più piccolino e inserendo voi all'interno il vostro lavoro diventa molto più rigido ripetiamo il set mini Sicily sempre compreso della tracolla e il set Sicily sempre con la tracolla in tinta questo set lo trovate disponibile sempre sul sito www.tessiland.com nelle colorazioni che sono il cuoio il blu il panna il nero che non può mancare mai e il bordeaux e come bene avete visto anche tutta questa bella spiegazione di questi set che sicuramente ci potrebbero essere in altri colori ma ci saranno tantissime tantissime altre novità per quanto riguarda i set io vi dico sempre che se potete guardate la seconda foto lì vi sono tutti i dettagli i dettagli che vi spiegano per filo e per segno le misure che sono una cosa che nell'assistenza ci chiedete sempre in tante ma ce l'avete lì quindi potete subito fare la vostra scelta e dare così gioia al vostro benessere di creare io come sempre vi dico azionate la campanella iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e sicuramente noi ci vediamo al prossimo news ciao ciao